Bentornati al nostro appuntamento qui su Reteotto. Oggi non vi parlerò di un argomento delle materie che tratta l'Inps, ma vi volevo far vedere un piccolo clip di un filmato realizzato per l'inaugurazione della sede provinciale e regionale Inps dell'Aquila, ristrutturate e adeguate a ogni criterio antisismico dopo il terremoto del 2009. È un momento importante per l'Inps perché rientra nel centro storico ed è un piccolo passo anche per la città dell'Aquila per rivedere la luce dopo il sisma del 2009. Vi lascio le immagini di questo filmato realizzato a nostra direzione centrale con le musiche del Conservatorio Casella dell'Aquila che è dedicato alle vittime del terremoto. Grazie. Allora, noi siamo due ragazze, siamo sotto la scrivania, vi prego, venite già a prendere. Dovrete uscire fuori da casa, che fate sotto la scrivania? Siamo al secondo piano, ci sono le macerie, cronata la volta del portone, come facciamo a prendere? E' l'ultimo piano del Palazzo, vi prego, venite già a prendere, no? E' l'ultimo piano del Palazzo, vi prego, venite già a prendere? E' l'ultimo piano del Palazzo, vi prego, venite già a prendere? E' l'ultimo piano del Palazzo, vi prego, venite già a prendere?